La strage della casermetta di Alcamo Marina, il suicidio di Rita Atria lasciata sola anche dalla famiglia dopo aver deciso di fare la testimone di giustizia, il depistaggio sull'omicidio di mafia di Peppino Impastato. Tre storie che gli studenti dell'ITET Caruso di Alcamo, l'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico, hanno racchiuso in una pellicola realizzata con tecniche avanzatissime. Se da una parte i ragazzi hanno fatto gli attori, dall'altra hanno ricostruito le scenografie in modo del tutto virtuale, quindi attraverso il computer. I giovani si sono cimentati con software, telecamere, luci e tutto ciò che è necessario in un set cinematografico, utilizzando però una metodologia del tutto innovativa. Oggi la proiezione di questa pellicola dal titolo Il Diario di Rita, nell'aula magna dell'Istituto Alcamese. Questo progetto ha condiviso con gli allievi una metodologia didattica innovativa. I ragazzi hanno imparato nuovi strumenti, nuovi mezzi di comunicazione che sicuramente, essendo ragazzi di triennio superiore, a breve potranno sfruttare in campo lavorativo. Per la prima volta arriva il teatro virtuale anche in Sicilia e arriva a Quadalca, all'Istituto di Romo Caruso. Credo che sia stata un'esperienza molto bella per i ragazzi che hanno studiato dizione, che hanno studiato il linguaggio del corpo, che hanno approfondito le tecniche relative al teatro. A noi fa piacere essere stati i primi, probabilmente in tutta Italia, a poter sfruttare i progetti del mio refinanziamenti statari, proprio per consentire la conoscenza di queste nuove e sempre più sofisticati meccanismi di recitazione e di raggiungimento di obiettivi seri. È stata un'esperienza che mi ha dato tanto, è stata la prima volta come attrice, mi sono divertita tantissimo. Accanto all'ITET, anche l'Istituto Comprensivo P3 Manzoni di Castellammare del Golfo e l'Associazione Critica, sempre di Castellammare, insieme hanno completato un progetto finanziato dal MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, arricchito dalla teatralizzazione dell'opera di Luise Sepulveda, La Gabbianella e il Gatto. È un lavoro notevole perché punta naturalmente alla legalità e alla cittadinanza attiva. È stato un lavoro di grande peso per gli alunni ma anche per le due scuole, una collaborazione che speriamo che possa continuare anche in futuro. Per la chiusura dell'evento di oggi ha presenziato Baldassera Lauria, l'avvocato di Giuseppe Gulotta, uno dei tre alcamesi coinvolti nella famosa strage della casermetta di Alcamo Marina, scarcerato dopo 22 anni a seguito della revisione del processo. Il legale è riuscito a sfondare il muro della diffidenza dei depistaggi, dimostrando l'innocenza del suo assistito, vittima di un pezzo di stato distorto. Una storia tutta da raccontare a futura memoria per le giovani generazioni. Sono episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, episodi che hanno piegato e che hanno offeso prima la democrazia e poi il senso di giustizia. Se questi valori riusciremo a trasmetterli alle nuove generazioni che all'epoca non erano nemmeno nate, è evidente che abbiamo compiuto un importante percorso.